Sorella, ho peccato. No, so qualcosa che ti può aiutare. Venga con me. Dal 15 secolo la Chiesa ha conosciuto di un passaggio segreto verso il cielo. Con la tecnologia moderna, i fici personali del Papa hanno creato un profumo per i peccati sentirti ad ogni esbrutto. Nel 15 secolo la Chiesa ha conosciuto di un passaggio segreto verso il cielo. Con la tecnologia moderna, i fici personali del Papa hanno creato un profumo per i peccati sentirti ad ogni esbrutto. La Chiesa ha conosciuto di un passaggio per i peccati sentirti ad ogni esbrutto. La Chiesa ha conosciuto di un passaggio per i peccati sentirti ad ogni esbrutto. Love is like I say my love for the ones that feel it the most like it hurt with your eyes like a flame She will love you like a fly Never love you again Oh, 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 oh Ciao, chianti It's unfortunate But when we feel a storm We can't roll ourselves over when we're uncomfortable Oh, 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 oh Intelligence, bend your hand if you're a stry big cutie Grazie.